Ehi Max! Ehi tipo, a contatti! Ehi tipo, a che tu hai più l'opcia, eh? Ehi Max! Ah, e sono bello, sono a dire, eh? E' giusto a te dico, eh? E' da un morafone! E voi! Erika, doveva l'un con e che mi piace, che vuoi? Che vuole per me prendere tutto il tempo? Ma sì? E se che mi sta cercando, issimo, Salute Maria, con la guia balè. Eh, come se! Si non, non c'est qui! Juste, juste, basta! Eh, qua!